Le misure entreranno in vigore questa sera a mezzanotte Questa ragazza vi è sempre piaciuta e leale, pane al pane, vino al vino Di qui la necessità di introdurre misure più restrittive Ma ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti Permettetemi di aprire una parente Hai aperto la parente? Chiudila Vi annuncio con il decreto appena approvato Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro Ma chi le ha viste mai? E ancora abbiamo già liquidato quasi 3 milioni e mezzo di bonus E le faccio tipicamente osservare che non sono stato pagato ancora Quindi è fatto di vieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi E ma qui mi pare che ci vada oltre il consueto E mi dice voi che dobbiamo fare? Nel paese nostro c'è più libertà Questa è un'idiozia E quando dice una cosa a lui non si discute più, basta Solo dobbiamo essere consapevoli La curva del contagio potrà risalire Tocchi questo, tocchi questo Questo però attenzione Cosa significa che rimaniamo inerti? Non c'è Rimaniamo chiusi in casa Guardi che è un ordine di lui Da qui non si muova nessuno È una fantasia per definirle mascherine dal nord Regione Lombardia anche su questo sta già lavorando Ma perché con tanti vestiri che ci sono vi mettete a fare i latri? Ma perché dico io? Quattro anni non te li toglie nessuno Per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50 Ragioniere è la somma che fa il totale In Italia siamo al crollo L'OMS è venuto, ha visitato gli ospedali Gli ospedali tutti neri, i cimiteri, i sauriti Non si trova un posto neanche a pagarlo un milione E alla fine ci hanno fatto i complimenti Ma mi faccia il piacere se ne va Ma non faccia lei il piacere I complimenti ci hanno chiesto del modello perché volevano prenderlo come esempio per il resto dei paesi Si sono stati anche i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i Veneti Dovesse essere stato, lo devo dire col condizionale giusto Lei è ignorante? Io sì Bravo Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbero essere E se hai dei figli uoli Non li mando a scuola per carità Non li regliano dentro Ti faccio sguazzare l'ignorante L'idea è che metà studenti vadano per metà settimana in classe degli su E l'altra metà collegati da casa a seguire quello che l'altra metà della classe fa in classe in presenza Mentre i cinque per esempio della difesa vanno in avanti I cinque attaccanti ne trocedano Credo di aver detto tutto Con questo detto tutto mi dispone Darei adesso via alle domande Dunque noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare Per dove dobbiamo andare In questo momento non lo so neanche io